Sei mesi di tempo per trovare l'accordo con le ferrovie e Arinox per avere la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione della nuova viabilità. Nel contempo la regione dovrà trovare le risorse per l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo. Per la nuova strada di collegamento verso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso le tappe sono state messe nero su bianco nel protocollo d'intesa siglato tra l'azienda, il comune di Sestri Levante e la regione. Presentato lo scorso novembre il progetto della viabilità alternativa per il traffico pesante punta a risolvere una delle criticità maggiori dell'abitato di Riva Trigoso, oggi attraversato ogni giorno da decine di tir diretti ai cantieri navali. L'area di intervento è compresa tra lo svincolo tra via del Petronio e via della Pace nel mondo e la zona che si trova davanti all'ingresso di Fincantieri. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada urbana che avrà origine all'incrocio fra via del Petronio e via della Pace nel mondo dove verrà realizzata una rotatoria e dalla quale si svilupperà un nuovo ponte stradale a scavalco del torrente. Da qui la strada proseguirà affiancando il tracciato ferroviario per scendere poi leggermente fino a raggiungere le aree prospicenti allo stabilimento di Fincantieri lungo via Gramsci. Qui una nuova rotatoria garantirà il collegamento con l'attuale viabilità. Un intervento che sicuramente porterà beneficio al nostro sito produttivo, commentano i responsabili della FIM CISL del Tiguglio che auspicano che l'azienda in vista di un ricambio generazionale del personale scelga in zona le nuove forze lavoro costruendo percorsi formativi nel territorio per sviluppare le competenze necessarie. Tra i nodi da sciogliere c'è sicuramente quello delle risorse da destinare per la realizzazione dell'opera. Attraverso il protocollo di intesa il comune continuerà ad attivarsi insieme alla regione affinché dai ministeri e dal governo arrivino ulteriori finanziamenti. Altro punto inserito nel protocollo di intesa è quello legato all'adeguamento dei puntili di varo dello stabilimento navale con un ampliamento verso la zona delle capannette. A breve fincantiere procederà con l'intervento che sarà suddiviso in due lotti che prevede anche il potenziamento delle difese a mare. In merito a questo l'azienda si è impegnata a realizzare un piano di monitoraggio della dinamica costiera ovvero della spiaggia tra la foce del torrente Petronio e la spiaggia di Renà. Il comune ha chiesto e ottenuto l'attivazione di un tavolo tecnico il cui compito sarà quello di monitorare i fenomeni di erosione che colpiscono la costa per rafforzare la sua tutela e per studiare prima e successivamente l'impatto degli interventi in modo che venga assicurata la tutela del frontemare.